Eccoti qua, espi disgraziato! Ma cosa stai facendo? Ma come cosa sto facendo? Finalmente sei arrivato! Dammi una mano a fare... Oddio! Oddio! Oh, sei pazzi! Sarò un pistolero del... Non mi picchiazza! Ti accendi, don cavallo! Maledetto! Ma sei pazzito? Sono un cowboy! Ma tu sei pazzito? Cosa mi spari? Cosa stai facendo con la pizza? Ma certo! Scusa, non dobbiamo aprire il nostro ristorante italiano! Noi non possiamo anche andare ad abitare, così caloroso e così bello! Ma che dici? Ma sono un americano ormai, guardami! Ma che cosa stai dicendo? Sei diventato la mamma che fa la pizza e la pasta con le mani in pasta! Fai quello che ti pare! Io faccio il mio coso italiano e tu fai l'americano che vuoi! Bodyblocketti! Cosa stai facendo a te, Lilo? Schifo stai facendo! Guarda che disgrazia! Lasciami fare che ho già fatto molto più di te che non sei manco il tricolore e l'ordine che ha! Ma cosa stai dicendo? Beh, è vero che la bandierità... Oh! 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 Oddio che mi sta spart... Così! Così ti fai rispettare, eh! Così ti mancano un po' di stelline, vedi? Ti mancano un po' di stadi! Meglio una federazione che le regioni! Guarda, 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 guarda... Ma smettia con ste stele che già abbiamo i nostri stati! Ci saranno stati gli ex... Che cosa stai facendo? Oddio! Ma c'è un uomo nudo qui nel portico! È un vecchio nudo! È lo zio Penn! Non lo conosci? Come lo zio Penn? Oh mio Dio, è un fugile! È molto nervoso, è molto territoriale quando ti avvicini al suo portico! Attento, sono un frio attivo! Maledetto! Ok, non so come è possibile però... Stai attento, stai lottando da Penn! Vabbè, non importa, ok? Ignoro e continuo a fare la mia casa che la tua è fin troppo pericolosa! Maledetto, stelline! Oh, un bel po' di vino italiano! Cosa stai combinando di qua? Ma io mi giro un attimo e si fa tutta la sua cucina italiana! Fammi fare più in fretta! Fammi mettere giù tutti i panchi! E tu invece cosa stai facendo? Chi è che è invitato qua? Un altro uomo nudo! È questo è lo dog di New York! Non lo conosci? È lo dog famosissimo! The Penn is on the table! Ma cosa vuol dire? The Penn is on the table! Ma sì, ma è un detto delle parti di Brooklyn! Perché devi essere del Bronx! Ah, scuse che sono ignorante io! Oppure mi stai prendendo in giro! Non mi toccare il cappello, disgraziato! Però guarda che... Oh! Sono nervoso il mio cappello! Che profuma di unto come tutti i tuoi panini! Come lo schifo che stai cucinando da quella parte! Guarda che se non friggiamo le cose nove volte, ok? E le mescoliamo con sette salse diverse, non siamo contenti di qua! Ma ti mostro cos'è una vera cucina, altro che friggere nove volte! Ma cos'è? Sana con il nostro caro Esposito, qualcuno che mi dà la pizza! Guarda che bella pizza! Oh, ma che bravo Esposito! Ma stavo notando questo vino che dovrebbe cambiare in bibita! Il mio vino! L'hai sostituito con le bibite gassate! Ma sei impazzito? Si fa così in America! Coca-Cola, Fanta, Pepsi... Ah... Ma... 17 doll... 17 dollari per hamburger e patatine! Ma sei dei criminali! Ma perché non mi sono a criticare? Sai quanto ci mangi con un hamburger dei nostri? Tre settimane da quante calorie ha? E vabbè... E vabbè ma ci fai pure un infarto! Ecco, 5 euro! Io ho i tranci di pizza che sono uno spettacolo! Altro che sta pizzando! C'hai pure l'anna sulla pizza, scommetto! Ma il bello di essere americano è che rubi tutto e poi puoi girare qualsiasi cosa! È bello di essere un ladro! Oh là! Guarda come sta venendo fuori! Buona la mia pizza! Che pomodori... Che ciliegini! I pomodorini incredibili! Ma c'ha pure il bordo bruciato! Tutto nero o meglio un panino! Toh! Toh! Ma cos'è? Hamburger! È la burger! Tu piaccia doppia hamburger! Sì, sì, sì... Ah, smettila! Senti, il cheddar! Vuoi infangare la qualità! Ah, ma pure il pallone! Pure il pallone! La palata football! Ci sono troppi pochi sport qua da voi in Italia! C'è solo il calcio! Guarda lì, il calcio! Forza azzurri! Bella roba! Eh, vabbè! Cosa c'entra? È spettacolastico! Noi ci abbiamo il football! Ci abbiamo il basket! È uno sport mondiale il calcio! È football! Il football! Questo è il vero football! Altro che il vostro! Ma sì, ma sì! Ma lo dici solo perché... Ci avete le vostre cose strane con le palle rotonde! Eh, certo! Le esagonali! No, guarda! Guarda! I Giants! E cosa sono i Giants? Mai sentite in vita mia! Ci abbiamo la palla a forma di uovo! Voi ce l'avete in rotonde! È molto meglio l'uovo di quel rotondo! Ma che giustificazioni sono? Ma te li stai inventando così sui due piedi! Non sbaglio! No! Non ad andare contro i miei monitor che li sto ancora sistemando! Ma sono dei monitor! Devo prendere gli ordini! Ma a me sembra dei cartoni messi a casa! Cos'è sta roba? Ah, è tutto ordinare! Eh sì, sono i Totem! È tutto digitale in America! C'è il blocco note! Allora li metti dritti! Ma vanno nell'altra direzione, Luca! Mi distra... Oddio! Ho fatto un casino! Ecco! Posso almeno provare a ordinare qualcosa? Paga! Paga! Vai, prova a pagare! E con cosa pago? Cos'è che c'è? I soldi di solito! Ci passo attraverso! Non lo so! Se paghi con roba estranea! E non ho la carta! Non importunare il mio cameriere! Con corcifisso pago! No! Non accettiamo indulgenze come pagamento! Ma cosa vuol dire? Vabbè, comunque in ogni caso... Non funzionano sti Totem! Dammi le mie... Ti faccio assaggiare gratis! Non c'è bisogno che paghi! Oh, finalmente! La buona notizia! Anche un panino! Fammi prendere questo panino! Va che gli faccio fare una bella fine! Mangatelo! Non infondo al mio stomaco come un'idea migliore! Dammi il panino se non lo mangi! È prezioso! Lo mangio, lo mangio! Tenti questo piuttosto! No! Non mi interessa! In realtà non lo mangio nemmeno il panino! Mi vuole rubare i cigli! È un viaggistro nel fuoco! Non nel fuoco! Sei un disgraziato! Sei un disgraziato! Sono buoni soltanto per essere bruciati sti cosi! Guarda che c'è il crocifisso qua in cucina! Ma è un sito! Cosa stai facendo? Non provare a mettere il crocifisso nel forno! Via! Blasfemo! Sciò! Non ha senso! Anche perché anche in America crediamo nella religione! Andiamo in chiesa! Molto di più di voi italiani! Oh! Un po' di tricolore anche qua! E il palcoscenico! Ah! È sto casino! Non so se era americana! Come fa l'inno americano? È così giusto? Sì! Fanno andando andando per tutte le canzoni! È il classico, classico canto americano! Tweet o ma... C'è quello che è? Tweet o ma... È Super Mario! È il tenore più famoso d'Italia! Ma è giapponese! Non è manco italiano! Vabbè ma... Ma si chiama Mario! Scusi! Guarda! C'ho anche il costumino da Mario! Guarda! Ti piace? Bellissimo! Stai proprio... Mamma mia! Mamma mia! Guarda che voce! Mamma mia! Appunto! Non ti piace il mio costume? Guarda che spettacolo! C'è davvero! Prendi un personaggio creato dai giapponesi e lo fa passare come per l'Italia! Proprio istereotipio! Ma cosa vuol dire? Ma c'è i baffi, un idraulico... Si chiama Mario! Guarda da cosa mi sto trasmestendo! Ma che è carnevale qua? Che è sta storia? Cosa sei? Sono capizzo in America! Difendo la libertà! Freedom! L'aquila! Pensavo fossi un puff un po' strano! Un puff un po' confuso! Però vabbè dai! Ognuno c'ha i suoi cosi! Sarei tu un puffo! Guarda qua c'ho l'originale anche! Eh vabbè! Ma come hai fatto per l'originale? Eh vabbè vedi! Dice pure God bless America! È proprio... Ah! Allora qualche altra sediolina! Così! Allora questo non so se ne devo mettere... Spostati però! Non impissare che sto facendo! Non toccare la mia zona perché davvero guarda sono pieno di armi eh! Guarda caso! Come se... Ma cosa stai facendo qua? Ma è la messa! È una chiesa davvero! Questo chi è? Ma cosa fa Pavarotti? Ma è l'opera! Quello è Pavarotti! Toh! Fallo giocare un po' a basket che magari si sgriglia un attimo! Ma non è un giocatore di basket! E' un tenore! Era un tenore! Povero lui! Però comunque in ogni caso è tipo una sala per assistere all'opera! E' Bocelli un altro tizio! Un altro tenore! E' Bocelli! Ecco meglio no di basket! Mi sa che non è portato! Vabbè comunque in ogni caso a questo punto direi che la mia sala è bella che completa! Non è niente da dire o da ridire su qualcos'altro? Oddio ci sono decorazioni un po' dubbie! Cioè non so quanto c'entra i Yoshi! Giusto! Sono super malo! Ti pare? I tricolori così scontato! Cioè fammi mettere un po' di bersagli nel mio poligono di giro! Questo non è scontato! Questo non è scontato se fai un poligono di giro nella tua casa americana! In America noi crediamo nel secondo emendamento e queste cose qua! Quello del basket! Il basket! Ok è diverso! Dai dai dai! Prova a fare un canestro! Prova a fare un canestro! Posso? Dai! Prova! Tutte le palle che vuoi! Ma che pippa! Ma non sei capace! Ma si vede che non sei capace! Guarda! Ma non è nemmeno... Non lo so! Non entrano queste palle! Ma nemmeno a te sei capace! Guarda che... Non è vero! Vedi? L'ho fatti tutti io! Ho tre punti! Eh certo! I tuoi sogni! Ma smettila! Tutto per trollarmi! Vabbè comunque in ogni caso... Io mi tolgo di torno prima che inizi a usare le armi perché so che mi vuoi mostrare anche questa cosa! Se vuoi provare il poligono guarda ti do tutte le armi che vuoi siamo pieni! Ah oh oh oh! Le vendiamo fuori sul mercato! Vabbè! Non vado a sparare! Smettila! Smettila! Fermo! È tutto! E tutto! Prego pure te! Via! Via! Questa mancanza di rispetto non l'ammetto! No! Ma dai! Ma come sei politicalicorrecto è l'Italia del grande impero romano! E nel 1990 non ho detto mai impero romano! E adesso Tocchetto finale qua Un bel pianoforte Classico Come sta andando? Non farei troppo casino con quel pianoforte Questo sì Sto suonando per adesso almeno Guarda che roba Ma guardate Ma mia sei proprio scontato Il classicum Il piano Non penso nemmeno sia italiano Ma almeno non sai suonare Non mi pare Mi sembra che nemmeno il Papa Ti sarebbe ascoltato Ma come fai a mettere il Papa in soggiorno? Ma non è vero Ma che sta a dire questo? È il suo motto Ma non è nemmeno in Italia il Papa Poi è nel Vaticano Io non ho parole Vabbè insomma il Vaticano dove sta? Veno male Vieni di qua a vedere i miei servizi segreti Il nostro presidente Guarda come fa un discorso Convince tutti A comprare più benzina O qualcosa del genere Ma cosa stai dicendo? Ma sono cose che ti stai E cosa servono i servizi segreti Davanti alla televisione Con il presidente? Fai che qualcuno ha qualcosa da ridire O vuole ridacciare la sicurezza? Ecco Si può fare una bella dormita Patriottica Ma basta Con sto patriottismo E basta con queste bandiere È sempre pieno di bandiere E basta Guarda quante trofei ci siamo dati Nello sport che giochiamo solo noi È troppo forte Tienene un po' di bandiere Tienene un po' Ma invece qua cosa c'è? Una cabina armadio? Guarda la statua Guarda che bella statua Ma che statua è? Ma sono Degli stivai Un fucile Un elmetto Ma Ma cosa vuoi dire Questa cosa? È un po' aggressiva come statua Vabbè forse con l'arte Vincete Vincete voi Eh mi sono fai niente Ci abbiamo i prodotti Consumismo To Una burger gigante Ma come una burger gigante? A caso? Davanti al letto? Eh? Te lo saresti mai aspettato in Italia Ma non puoi mangiare? Non lo so Boh Un puff Un puff? Ti puoi stendere? Beh come donna? Sei rilassatissimo Abbastanza Non vai a abbastare la guardia Ma ti sei sfogliato Per distenderti sul puff? Eh Sì vabbè Più comodo È una burger gigante Ok? Non mi giudicare Mi giudichi sempre Va bene dai A questo punto direi Che è il momento Di scendere giù E vedere un po' Un riepilogo Di questa metà casa Ah Guarda E vediamo cosa scelgono I nostri cari spettacoli Smettila però Queste cose Ma Cosa preferiscono? Se la Casa calorosa Italiana E bella Di Esbio Quella Trista Grigia Brutta E Nazionalista Di Luca Ma non c'è nemmeno Il grigio Ma Tu non è Nazionalista Disgraziato Eh no C'è Vabbè Forse Ma no Comunque In ogni caso Non puoi Puglionare così Foto Non sei Dmocratico Il più violento Maledetto Infame Quello è poco Ma sicuro Come poco Ma sicuro Cosa vuol dire Forza Hai votato in tantissimi E stai calvo Con quella pistola Sai cosa Cosa succede No Adesso Ti prendo Il crocifisso In testa La maledizione Del signore No Vieni qua Vieni qua Che hai paura Mi toccare Che hai paura 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 Che hai paura